C'è una giornata abbastanza buona. Abbiamo deciso di strambare per allontanarsi un po' del gruppone, però abbiamo preso il salto incontro, quindi non è andata bene. Comunque è finito il settimo, quindi è una buona giornata. A parte Barking Mad, che comunque si è mantenuto sempre tra i primissimi, c'è stato un grande rimescolamento di posizioni. Quindi una classe che si conferma ancora una volta molto livellata. Sì, credo sarà così tutto il mondiale, è l'impressione che c'è, perché le barche camminano molto simili, il percorso non è grandissimo, quindi è difficile stare sempre nelle stesse posizioni. È vero che quando cambia le condizioni magari cambia un po' il risultato, però è da vedere. Grazie. 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 Grazie.